buonasera buonasera a tutti eccomi con voi sempre più ben illuminato è sempre più pimpante perché comunque finalmente almeno in questi giorni stiamo vivendo una fase molto dinamica ci sono già diciamo chi si lamenta che non è arrivato ancora nulla calma calma l'evoluzione meteorologica in atto adesso è molto interessante una saccatura è una forte perturbazione entrata nel mediterraneo questa perturbazione porterà ancora piogge maltempo su tutto il nord le centrali medio alto tirreno sardegna adesso poi dopo si estenderà anche verso il sud centro sud colpire le adriatiche le ioriche e anche le regioni meridionali in genere chiaramente non c'è il gelo vabbè ma non era da aspettarselo adesso ma come non commentare le innumerevoli segnalazioni di nevicate copiose con grandi fiocchi perché è vero che ci vuole il freddo per avere neve in pianura eccetera però le maggiori nevicate molti di voi forse lo sapranno molti no non si hanno in siberia in artico in antartide anzi poi in antartide addirittura diciamo le precipitazioni sono molto molto limitate questo perché per avere belle nevicate ci vogliono i contrasti termici quindi le nevicate più intense si hanno alle medie latitudini come accumulo globale ad esempio si hanno sono noti quelle della sierra nevada in california anche un po più a nord che lo scorso inverno nella california del nord al confine con nevada ci sono stati accumuli di 14 metri addirittura e e la nevicata più intensa che entrata nel guinness dei primati è proprio in italia nelle 24 ore con rocca caramanico che tra maiella e il morrone un punto ben specifico che in corrispondenza di un vortice freddo molto intenso proveniente dai balcani dovrebbe aver accumulato 340 centimetri 3 metri 40 in 24 ore una cosa spaventosa se vogliamo quindi le questo tipo di nevicate che personalmente a me piacciono molto le preferite si hanno proprio le nostre latitudini e oggi pensate a un peggioramento molto intenso nel golf oliguro che è entrata al nord ovest e le precipitazioni spesso anche piuttosto intense prolungate cratere di rovescio e sui rilievi sono diventate nevose quindi abbiamo tante immagini dell'entroterra genovese nel savonese nel cunese ma anche poi su val d'aosta lombardia e piemonta ovviamente settentrionale con splendide fioccate e con accumuli che stanno che in quota stanno diventando anche piuttosto considerevoli e il bello che non è finita perché nelle prossime 24 ore ancora precipitazioni molto intense 24 36 ore e nevicate nevicate sulle alpi e poi e misi posto ecco vedete come tutto coordinato c'è quest'altra saccatura e questa qui che dice il 2 marzo il prossimo weekend una nuova saccatura prenderà le mosse sulla via tracciata da questa in azione in questo momento e la natura è pigra e non è la prima volta che a una una fase di maltempo se ne succede un'altra attraverso un canale depressionario che poi nella nel flash proprio di questo momento è perfetto vedete l'ondulazione l'ho voluto disegnare proprio così qui sale il getto poi riscende poi risale e noi finalmente ci troviamo nel cavo d'onda e non più nell'alta pressione che ora è spostata in atlantico prima era qui sulla spagna ed era proprio sul sull'asse dove c'è questa b c'era una bella a anche più in basso che era l'alta pressione che ci ha dominato per settimane da natale in poi fino a quasi la metà di febbraio insomma e poi il tempo è andato cambiando già abbiamo già due forti perturbazioni sono arrivate come dicevo sembra proprio che una terza debba prendere la stessa strada e dare altre forti nevicate quindi è vero che in appennino non c'è neve perché è stato caldo ma arriveranno le nevicate in appennino e se continua così per i territori alpini diciamo quote mille oltre mille 1500 metri quote comunque scistiche insomma ci saranno degli accumuli come se non se ne vedevano da tempo molto probabilmente al termine di questa fase entro la fine della prima decada di marzo e poi c'è il final warming anticipato abbiamo detto e quindi i modelli attenzione a vedere altro perché potrebbe spuntare qualcos'altro e nell'ultima emissione tra ieri e oggi spuntava un anticiclone di blocco proprio qui è un afflusso freddo dai dalla russia addirittura quindi poi anche il freddo oltre alle piogge questa previsione ancora è molto varia ma invece questa che vi mostro adesso e che quindi per il prossimo weekend è molto probabile e quindi siamo a lunedì ne abbiamo un'altra settimana di maltempo che chiaramente non continuano ovunque ma comunque si succederanno impulsi perturbati che andranno a generare episodi di maltempo quindi vedete che le cose comunque seguono il loro corso finora era lo strano è stato adesso finora che con un contesto di vortice polare debole predisponente non avveniva nulla ora le cose sono rimesse un po' in carreggiata vediamo quanto riusciremo a raccogliere stiamo già raccogliendo molto al nord sulle tirreniche ma sulle alpi già stiamo raccogliendo molto vediamo se riusciremo a allargare il raggio d'azione e allora ora vi mostro quello che sta accadendo perché veramente interessante ho postato tanti video di nevicate stupende dal nord ovest guardate bene vedete come questa questo vortice di bassa pressione diciamo in via aria fredda sulla spagna orientale fino alle coste del marocco qui questo è il getto polare vedete il getto come vada a divergere e proprio sulla parte anteriore sinistra diciamo come da manuale meteo si forma questa perturbazione anche col contrasto ovviamente con tutta dell'aria fredda che arriva fino alle coste del dell'algeria e si forma una nuova perturbazione nelle cosiddette onde corte di birkness nel nell'onda all'interno dell'ordine di rosby cioè più impulsi perturbati che si susseguono uno e appena sta passando ora c'è stata una breve pausa e qui al nord ovest e ne arriva un'altra adesso e c'è l'allerta rossa addirittura in alcune zone del veneto per domani allerta gialla in molte altre regioni compresi tra la liguria la toscana emilia insomma lungo quest'asse perturbato e poi il piemonte verrà coinvolto di nuovo ora vi faccio vedere le previsioni sono importanti vedete ecco qua guardate il ligure qui nel golf libri ligure scusate come stia risalendo nuovamente della delle precipitazioni mentre queste sono quelle legate alla presente perturbazione e poi tra sardegna e corsica ne arrivano altre l'italia per adesso è divisa in due diciamo a ovest di roma eh precipitazione estese a este ancora poca cosa male ma cambieranno le cose e guardiamoci insieme questa carta del modello americano vedete ecco la 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 saccatura ora in azione vedete come affondi sempre di più e si distacchi gradualmente dal fulso principale ma proprio questo distacco genera un'ampia goccia fredda che eh stante la sua persistenza nel mediterraneo darà ancora maltempo e darà varie un po in tante regioni addirittura un vortice perturbato ciclonico nel nello stretto di sicilia e questo sarà maltempo al sud ancora le ioniche già bersagliate ieri poi poi sembra che si attenui ma poi arriva il nuovo peggioramento prende in carico quello che è successo in precedenza e via ecco un nuovo affondo perturbato poteva andare ancora meglio questa questa spinta anticiclone che poteva concretizzarsi ancora verso in alto ma purtroppo questa ancora paghiamo un po il trend di questi ultimi anni che che la chiusura in atlantico da parte del flusso perturbato che però questa volta ha questa alta pressione che si collega proprio sulle azzorre finalmente nella sua sede naturale poi quindi si va giù così e il flusso perturbato arriva da noi lo vedete questi colori scuri che dalla Corellandia Meridionale partono e arrivano proprio sull'Italia vuol dire che una serie di perturbazioni dopo l'altra arrivano dentro il mediterraneo poi qui c'è anche un mare caldo e quindi innescano maltempo episodi in serie questo perlomeno fino al 4 5 marzo e qui siamo al 5 e poi guardate questa è l'emissione del mattino del modello americano guardate come ci sia il blocco scandinavo e ci sia un afflusso freddo da dai Balcani niente di leggendario per carità però molto interessante poi la tendenza al blocco che si ha sulla scandinavia ora questo sembra un punto abbastanza probabile però dipende da come poi questo blocco andrà a collegarsi con quanto gli sta più a sud se forma un ponte in questo modo lo forma nel punto sbagliato quindi avremo alta pressione ma se poi si scava qualcosa scava alla base ecco qui sono entrambe le situazioni e poi arrivano i peggioramenti da est magari in connubio con una perturbazione atlantica e allora le cose si mettono molto interessante diventano perché comunque c'è il freddo da est e l'umidità da ovest un classico e vi faccio vedere infine la previsione del modello europeo in termini di precipitazioni guardate qua questo è adesso vedete il peggioramento che c'è stato qui siamo ecco scusate questa di stamattina quindi questo di oggi le precipitazioni intense di oggi del pomeriggio la parziale attenuazione ma poi arriva l'altro impulso da sud guardate ecco qui e poi domani mattina nuovamente maltempo mezza italia sotto le precipitazioni con nevicate abbondanti nuovamente questa volta anche tra dolomiti lombardia orientale ancora golfo ligure guardate e poi ve lo faccio continuare adesso in loop cioè in dinamica guardate come tornino anche al nord ovest continuano di sei ore in sei ore vedete le perturbazioni il vortice al sud continua va avanti sempre e depressioni che si alterano pausa ma poi tornano le precipitazioni arriva il nuovo peggioramento eccolo qui e via di nuovo guardate quante guardate quanta neve sulle alpi con questo peggioramento avete visto se volete poi ve lo rimando ma avete visto il transito di questo nuovo impulso perturbato che ci porta tanta pioggia e tanta neve e insomma eccolo qua possiamo tornare e insomma non è male non è affatto male innanzitutto abbiamo detto le precipitazioni arrivano finalmente le falde idriche la neve ma la neve arriverà abbondante sulle alpi quindi non è solo un discorso di ricarica di falde idriche arriverà a quote anche collinari quindi tutte le principali località sciste anche dal punto di vista economico se vogliamo avranno una stagione che si sta pronunciando un finale di stagione alla grande perché comunque le nivicate si sommeranno di giorno in giorno e diciamo ripeto sopra i mille mille e cinquecento metri di quota a seconda delle aree gli accumuli saranno metrici sopra i mille e cinquecento metri a duemila diciamo a due tre metri di neve non ce li toglie nessuno nelle località ben esposte perché se sommiamo quelle avete visto le foto di livigno carico di neve e a questo se ne aggiungeranno molta altra perché spesso sono previsti almeno una settimana comunque in cui ci sarà possibilità continua per nevicate e quindi da questo punto vista bene il centro sud abbiamo detto le precipitazioni arriveranno la neve arriverà anche anche sugli appennini ma quote elevate abbiamo visto di conseguenza questa è una stagione da questo punto di vista pessima per le nevicate in appennino raramente io che comunque sono cresciuto e viva ancora al centro adesso diciamo vi parlo da genova ma vivo a roma anche vado nel weekend e effettivamente raramente è capitato ma vi ricordate l'anno scorso a maggio poi il campo imperatore c'erano tre metri di neve cioè via di scioglimento ma quindi ancora è lunga siamo ancora a febbraio quindi sulle cime degli appennini anche le località insomma in quota ancora di neve ne potrà fare e ne farà nei prossimi giorni ne farà non prevista però quote basso ovviamente stiamo allerta comunque perché ci saranno episodi maltempo mareggiate possibili e tanta tanta neve sulle alpi ripeto e qui l'occasione per delle valanghe infatti le allerta sono state diramate e seguite meteoscienza grazie del grande seguito anche nelle varie diversi social su instagram sto postando tante foto ma anche su facebook video e foto delle grandi nevicate grazie per le segnalazioni inviatene tante quando volete verrete citati vi faccio le dediche dipende poi da quanto uno vuole essere pure menzionato e iscrivetevi al canale youtube perché non farlo ormai dovete farlo per forza non costa nulla seguite e consentitevi di portare avanti questo sogno di un bambino un po cresciuto adesso che ha sempre amato i fenomeni atmosferici la nevicate e la pioggia anche temporanea ogni cosa i fenomeni estremi che speriamo non diano però problemi e poi chi si vuole abbonare a instagram e youtube facciamo tante cose interessanti nel nella chat whatsapp comunque fatto sta continuate a seguire perché c'è davvero tanto da vedere e vi aggiornerò puntualmente non mancate ciao 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 ciao